Il scompenso cardiaco viene definito come sindrome clinica complessa che può esitare da qualsiasi danno a carico del cuore che in qualche modo impedisce il riempimento o la contrazione dei ventricoli. Quindi ogni qualvolta noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui i ventricoli non possono riempirsi adeguatamente o non possono eiettare il loro contenuto di sangue in modo normale, diciamo questa è una situazione che può portare allo scompenso cardiaco. I sintomi cardine dello scompenso cardiaco sono l'affanno e la stancabilità, e la facile stancabilità. Altro sintomo può essere l'edema, quando vi è congestione di idrosalina e in questo caso si può anche parlare di scompenso cardiaco congestizio, solo in questo caso. Vi sono due grosse famiglie di scompenso cardiaco. Lo scompenso cardiaco ha frazione di direzione normale e scompenso cardiaco ha frazione di direzione ridotta. Nel 60% dei casi, 60-65% dei casi di scompenso cardiaco, la causa principale dello scompenso è la cardiopatia ischemica. Quindi chiaramente, essendo la cardiopatia ischemica, il paziente va rivascolarizzato ogni qualvolta si suppone che possa sviluppare poi uno scompenso cardiaco per causa ischemica. Vi sono delle cause anche prettamente mediche, come l'ipertensione arteriosa, altre cause sono le valvulopatie. Quindi se il paziente ha una valvulopatia che può portare allo scompenso cardiaco, è chiaro che va trattata la valvulopatia. Lo scompenso cardiaco è una sorta di palestra multidisciplinare dove ci lavora sia il chirurgo che il cardiologo. Diciamo, tutte le forme di scompenso cardiaco, per esempio, a conservata frazione di direzione, sono tutte forme prevalentemente di trattamento medico e non chirurgico. Le nostre sono quelle dove vi è la cardiopatia ischemica, dove ci sono le insufficienze valvolari e dove in qualche modo c'è già stato un danno per colpa di un infarto e noi abbiamo la possibilità eventualmente di rimodellare la camera venticolare sinistra che aveva subito l'infarto. I cuori vanno rivascolarizzati sempre in modo completo perché in questo modo vi è maggiore possibilità di recupero del cuore. Quando vi sono delle valvulopatie, le valvulopatie vanno trattate, se è possibile, con trattamenti conservativi, se non è possibile con interventi sostitutivi. Quando invece il cuore sviluppa una grossa cicatrice nella sede dell'infarto, è possibile rimodellare il venticolo sinistro in modo tale che ridandogli una forma adeguata che preveda appunto una forma ellittica come quella del cuore, il cuore possa recuperare una funzione adeguata. In sala Ibida noi possiamo tranquillamente eseguire sia interventi di cardichirurgia open che endovascolari. Il valore aggiunto della sala Ibida oggi qual è? È che praticamente mette a contatto di gometro vari professionisti perché nella sala Ibida ovviamente lavoriamo noi chirurghi, lavorano gli amodinamisti, assieme agli anestesisti, lavorano i chirurghi vascolari, possono lavorarci anche i radiologi. Quindi praticamente diverse professionalità si incontrano lì per cercare di fare per quel paziente che è in sala Ibida in quel momento la migliore cosa possibile sia dal punto di vista proprio della tipologia di intervento ma anche dal punto di vista proprio della minore invasività possibile. Oggigiorno, e le linee guida lo impongono, ogni valutazione complessa su pazienti complessi deve essere fatta in Air Team. L'Air Team praticamente è quell'insieme di professionisti che mettono a disposizione le loro conoscenze e i loro know-how per cercare di dare al paziente il miglior trattamento possibile e se nei casi di pazienti particolarmente gravi, particolarmente anziani, particolarmente fragili, dare al paziente quel trattamento che sia il meno invasivo possibile.